Ciao ragazzi, con questo video vi farò vedere un altro gioco che come painkiller si allontana appunto dai soliti schemi moderni, degli fps ormai con grafiche super pazzesche e ritorniamo di nuovo indietro. Bene, se con painkiller pensavate di aver visto già un gioco vecchiotto e che facesse scuola degli fps, con quake andiamo addirittura ancora più indietro fino al 1996. Questo gioco qua per me è molto importante, molto famoso perché è un gioco che appunto io giocavo da bambino e secondo me oggi almeno tra la community italiana è quasi sconosciuto, quindi non dico che mi farebbe pazzo di gioia che voi lo compraste, però certamente se riuscissi a farvelo piacere con queste due parole e voi supportaste diciamo l'ID prendendolo anche voi, boh sarei più contento ecco perché l'ID a parte Rage mi ha colpito molto in tutti i suoi episodi che ha fatto, quindi Rage è sicuramente un bel gioco, però mi aspettavo molto di più. C'è anche da dire che un errore si perdona a tutti, c'è anche, ci sono case che ne hanno fatti quattro di fila per esempio di errori e continuano a vendere. E niente, sto facendo un grosso errore di parlarvi di un gioco come Quake in solo quattro minuti, però odio dilungarmi da solo nelle cose e quindi volevo giusto farvi dare uno sguardo, anche perché penso che un gioco come Quake non lo si riesca ad apprezzare interamente solamente in una recensione, ma ha bisogno di essere visto e rivisto, cioè il modo migliore è vedersi dei proprio dei gameplay oppure giocarlo perché quello che a livello Quake non è appunto la trama, non è un must effect, ha un gameplay non lo so dove basato sul salto sparandovi il razzo nei piedi, sono tecniche da fps frag arena, roba la serie USAM anche più nuda e cruda. E quindi vi consiglio di o giocarlo oppure vederlo da un vostro amico. Quello che state vedendo, le immagini, non sono proprio direttamente dal 96, infatti il gioco io l'ho moddato con delle texture che sono uscite fino all'anno scorso in HD e un motore grafico che gira su molti giochi un po' vecchiotti, diciamo, che si chiama Dark Place Engine e niente, quindi è molto meglio visto così, cioè è anche più giocabile per tutti secondo me. E un'altra cosa interessante che con Quake e Dark Place Engine c'è la possibilità di giocarlo in coppia, però questo non è fondamentale, non è fondamentale da dirsi, ecco. Quello che c'è di bello in Quake è diciamo l'atmosfera di gioco e ai tempi fu il primo vero gioco in multiplayer, un multiplayer che non so se magari farò insieme a qualche amico, chi ne avrà voglia, ecco. La trama di Quake comunque rimane per certi versi simile a quella di Doom, ma non è l'importante, l'importante è in questi giochi qua sparare a tutto e vedervelo a voi contro il vostro amico. Io qui ho chiuso, quindi se ci rivedremo con Quake è perché lo giocherò in cooperativa e farò proprio dei gameplay. Sappiatemi dire qualcosa. Ciao ragazzi, bella giocata a tutti. Grazie a tutti.